La buona notizia è che anche nella difficoltà la filosofia dello yoga dice che in ogni difficoltà c'è un'opportunità che dobbiamo vivere e dobbiamo esplorare e quindi penso che attraverso questa opportunità noi potremmo veramente incontrare delle parti di noi che si esprimono e che possono rendersi più visibili e questo ci porta a fare una grande evoluzione di quello che noi siamo, una grande trasformazione anche di qualche cosa che poi può attuarsi nella nostra vita di tutti i giorni e quindi quando la qualità della nostra vita cambia anche noi abbiamo più soddisfazione nelle cose che facciamo e ci sentiamo più vicini a noi stessi, quindi credo che la buona notizia sia le difficoltà possono comunque aiutarci ad attraversare ed andare al di là della difficoltà per trovare invece l'opportunità che ci fa veramente vivere qualcosa che per noi è sicuramente importante.